Buona domenica 7 di novembre, cari risparmiatori, sempre ufficio dell'Associazione Unica della Banca Polare di Vicenza e Veneto Banca notizie importanti questa sera, un video importante vi chiedo di seguirlo fino alla fine la prima parte riguarda CONSAP, lo sapete avete visto i video scorsi dove parlavamo della poca trasparenza da parte di CONSAP sui numeri che riguardano il FIR, abbiamo scritto diverse lettere, qui abbiamo avuto righe di risposta dove dentro non c'era nulla ve l'abbiamo fatto vedere bene, quella poca trasparenza da parte di CONSAP corrisponde a dei ritardi ovviamente nella gestione del piano di riparto quindi dei risparmi, dei residui del FIR e soprattutto abbiamo scoperto che il giorno dopo aver fatto la richiesta dei numeri appunto CONSAP ha pubblicato sul suo portale di aver valutato con la commissione tecnica 102.000 domande però su queste 102.000 non c'è scritto quante sono state liquidate, comunque sono 102.000 domande su 144.000 quindi siamo ben coscienti che c'è circa un terzo del lavoro ancora da fare bene, dopo questi nostri video sono partite delle interrogazioni parlamentari che riguardano appunto i ritardi di CONSAP e i ritardi dei bonifici del FIR. Ringraziamo per questo motivo e restiamo in attesa dell'esito delle interrogazioni parlamentari ringraziamo i parlamentari anche veneti che si sono mossi per una maggiore trasparenza su questa vicenda quindi grazie mille, però devo anche dirvi che purtroppo in queste ore altre ombre si stanno addensando all'interno del FIR e vi chiedo un momento di attenzione altre ombre perché da voci di alcuni parlamentari in cerca di qualche consenso politico sembra si vogliano inserire all'interno del FIR, lo ha dichiarato in modo anche implicito l'onorevole luoco che il FIR sta rimborsando i risparmiatori delle banche venete ma non sono gli unici soggetti da rimborsare cara luoco, onorevole luoco, il FIR rimborsa non solo i risparmiatori veneti perché sennò suona veramente molto male ma anche ci sono altre banche, ricordo Etruria, ricordo Ferrara e tante altre quindi la prego di correggere, di essere un po' più corretta nelle affermazioni che lascia visto il suo ruolo di presidente della commissione banche dopodiché appunto come dicevo delle ombre si stanno addensando all'interno del FIR perché sembra che si vogliano inserire altri soggetti all'interno del fondo in emizzo risparmiatori, soggetti diversi rispetto a quello delle banche liquidate questo comporterebbe per noi alcuni e diversi problemi uno che la normativa è stata fatta esattamente per quello che sono le banche liquidate quindi è stata fatta su misura per quelle banche liquidate per la tragedia delle 5-6 banche che sono state liquidate qualche anno fa ricorderete ci sono dei risparmi all'interno del FIR, ne abbiamo contezza, non sappiamo quanti perché manca il piano di riparto da parte di CONSAP e quindi ci sarà la possibilità nel momento in cui verrà finita la distribuzione del 30% di poter vista, vedersi aumentare perché così abbiamo fatto scrivere nella legge il 30% se dovessero essere inseriti altri soggetti all'interno del FIR dovrebbero, passatemi la parola accontentarsi del residuo del FIR e la normativa andrebbe ad impantanare una serie di situazioni molto diverse fra di loro, perché dico questo? perché ad oggi altri soggetti che possono entrare nel FIR così come è stata sfidata la norma non ci sono altre banche liquidate nella stessa maniera di quelle banche, non ci sono quindi io vorrei sottolineare e vorrei porre questa domanda è corretto impantanare una norma e modificarla, in cerca di un consenso veloce e facile non è, certamente non sarò io a porre dei limiti sui rimborsi a dei risparmiatori ci mancherebbe altro, anzi sono assolutamente a favore, lo abbiamo detto diverse volte anche per quanto riguarda diverse situazioni, facendo i nomi popolari di Bari ad esempio ma è giusto, cara politica, cari politici in cerca di consenso sarebbe corretto per questi risparmiatori dargli tanta dignità quanto meritano e quindi fare un fondo al posto di modificarne uno e togliere a noi ciò che abbiamo fatto inserire, fare un fondo a loro dedicato, specifico e che gli dia la dignità di cui hanno necessità cambiare la norma e impantanare tutto sembra veramente poco corretto un'ennesima cosa fatta all'italiana a cui noi sinceramente ci opponiamo fermamente lo dico con chiarezza e con fermezza invito anche quindi tutte le istituzioni e tutti i politici che non sono in cerca di un consenso semplice, veloce e immediato di fare una riflessione su questo tema e qualora volessero anche le istituzioni del territorio di esporsi su questo tema ritengo necessario che il FIER sia stato fatto per determinate situazioni è stata messa una cifra all'interno di quelle determinate situazioni che sembrava congrua che ci dà il 30% e probabilmente con i residui qualcosa di più del 30% è giusto rimborsare altre situazioni qualora il Parlamento o il Governo lo ritenga necessario ripeto, non sarò assolutamente io a mettermi contro anzi, ci sono diverse situazioni tipo degli Ulemar che sono in discussione in Parlamento popolari di Bari a cui tengo molto perché persone risparmiatori che ho conosciuto assolutamente degni vorrei aggiungere anche magari MPS visto il momento, visto la stagione però questi soggetti hanno diritto alla loro dignità e a un loro fondo e a una normativa che parli di loro questa è la riflessione vi terremo comunque aggiornati grazie mille a tutti buona serata e a presto condividete questo video per darci forza questi sono dietro di me i nostri numeri per ricevere questi e altri video nostro canale YouTube Noi che Credevamo nostra pagina Facebook Noi che Credevamo dateci forza oppure Telegram Noi che Credevamo News dateci forza più possibile perché come vedete il mainstream non parla più di noi siamo sempre molto scomodi e grazie ancora e buona serata